E' pericoloso andare a dare il patrocino della Regione Veneto a persone che vogliono la morte e la discriminazione degli omosessuali o addirittura delle donne solo perché applicano la legge italiana, ovvero per esempio l'aborto, o perché chiedono uguaglianza. E' veramente incomprensibile come il Governatore Zaia metta il Veneto una Regione di libertà, di storia, di uguaglianza a fianco di persone che vogliono portare l'equivalente dell'estremismo islamico in salsa cattolica qui da noi. Praticamente gli organizzatori che sono il World Congress of Families sono stati segnalati da organizzazioni che tutelano i diritti di parità di genere, i diritti di pari riconoscimento di tutte le forme di famiglia, come gruppi d'odio, ovvero come gruppi che promuovono una concezione, questo è quello che abbiamo riportato nella nostra interrogazione, delle relazioni familiari basate sulla subordinazione della donna all'uomo e sulla comprensione dell'autodeterminazione femminile. Siamo nel 2019, il Veneto è considerato una Regione moderna, qui si ritorna al passato, si ritorna direi al Medioevo. Io considero famiglia il luogo dove c'è l'amore, questo è l'unico criterio che dovrebbe guidare anche la Regione Veneto, quindi chiediamo ancora con più forza alla Regione Veneto di togliere il leone del Veneto da quel convegno che non rappresenta nessun luogo di amore, ma un luogo di odio nei confronti delle persone che vengono discriminate quotidianamente anche all'interno della nostra regione. Grazie Grazie